G-Main Clement è un comico, attore e sceneggiatore neozelandese e compositore di colonne sonore cinematografiche.Conosciuto anche come componente del duo comico musicale Flight of the Concords insieme a Brett McKenzie Nato in Nuova Zelanda da madre Mori, ha trascorso i suoi anni di formazione nel distretto di Sautuera Rapa. Successivamente si è trasferito a Wellington, dove ha studiato teatro e cinema alla Victoria University dove ha conosciuto Brett McKenzie Nell'agosto del 2008, Clement si è sposato con Miranda Manasiadis, attrice teatrale, con cui era fidanzato da tempo. Nell'ottobre 2008 hanno avuto un figlio, Safa Clisirai Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane Grazie per l'attenzione.